Formazione come leva per la crescita e la competitività e innovazione, quale strumento strategico per l'organizzazione delle aziende e i processi produttivi, cultura digitale e condivisione delle comunicazioni. Parte dalla campagna alla rivoluzione delle conoscenze e delle competenze nelle imprese per rispondere alle richieste del mercato globale. Sono gli elementi cardine emersi nel corso della giornata la formazione delle imprese, un hub per il futuro promossa alla stazione alta velocità di Afragola da OBR Campania Fondi Impresa con rete ferroviaria italiana SPA e 100 stazioni retail. Il presidente di Fondi Impresa, Bruno Scuotto, ha ricordato che oltre il 12% delle aziende aderenti a Fondi Impresa sono campane che la regione con le sue quasi 25.000 aziende e oltre 264.000 addetti è protagonista della grande rivoluzione culturale in atto. La via dello sviluppo e della crescita passa attraverso dei processi di formazione intendendo come formazione l'intera filiera formativa, quindi dall'ingresso nelle organizzazioni aziendali da giovani con un orientamento sufficiente, quello che una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro, passando per i nuovi strumenti come gli ITS e finendo con la formazione continua che è una costola che accompagna i lavoratori e le imprese per tutta la durata e la loro vita. Gli investimenti sul digitale e sulla formazione invece sono stati al centro della tavola rotonda aperta da Mike Taurasi. La formazione deve essere più mirata, specializzata, deve essere una formazione pratica perché il mondo del lavoro oggi ha bisogno di personale, di collaboratori che siano pronti subito per entrare in campo e questo fondo impresa ci sta puntando molto con avvisi e anche sviluppando quello che sono i conto formazione, quindi ogni azienda può in autonomia scegliere cosa e dove andare a investire anche sulle proprie figure interne, quindi i giovani. Claudia Cattani invece, presidente di Rete Ferroviaria Italiana, nel suo intervento ha sottolineato la centralità dell'adeguamento delle competenze nel grande piano di ammodernamento di ferrovie in Italia. Le risorse umane vanno formate in modo moderno, intendendo per modo moderno mantenere la professionalità tradizionale connessa al business tradizionale che noi svolgiamo ma integrandola con modalità formative innovative. Tra gli ospiti anche il presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi, che ha sottolineato come la formazione continua rappresenta un fattore importante per la velocità strategica delle imprese. Adeguare i programmi scolastici, quindi c'è bisogno di una strategia nazionale che punti decisamente sulla formazione.